In corso l'ultimo incontro del progetto Publish, Production and Use of Digibooks for Learning, School and at Home. Siamo a Ginnazia di Zagabria e gli insegnanti impegnati nel progetto stanno lavorando per concludere il rapporto finale e gli ultimi momenti della loro attività biennale. Ecco la sala dove a gruppetti stanno completando il materiale necessario per metterli sul sito dell'istituto. Stiamo rileggendo, stiamo preparando. Questi due colleghi italiani stanno finendo il progetto, il progetto, il gruppo croato sta continuando a lavorare. Questa fase non è meno importante delle altre perché essendo un progetto finanziato dalla comunità europea bisogna rendicontare tutto quello che è stato fatto ed in più il materiale che abbiamo prodotto, che hanno prodotto tutte le scuole deve essere messo a disposizione della comunità. Per cui verrà prodotto e verrà naturalmente pubblicizzato un sito, un sito web dove si sarà raccolto tutto quanto e che servirà anche da strumento per future attività delle varie scuole da sole o assieme relativamente a questo tipo di prodotti. Quindi stiamo parlando di libri digitali, stiamo parlando di widget, stiamo parlando del tentativo di fare una nuova didattica che non è senz'altro intenzionata a sostituire la didattica tradizionale ma di integrarla attraverso l'utilizzo dei nuovi strumenti che abbiamo a disposizione.